hey alla stazione è martedì penso che sono le 6 e 20 ok chissà meglio di me ok anche freddo ok oggi è una giornata piena che vorrò fino a tardi ok veniamo qua i colori veniamo qui un pochettino ok ok ci piace Christmas I like it ok va qua il mio posto preferito perché starbucks non è che sono un amante di starbucks ma è molto piccata ok andiamo qui ok 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 buongiorno ok 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 sono quasi le due di pomeriggio però non ho finito la giornata devo andare all'altro ufficio anche se quel lavoro è finito però mi hanno chiesto un favore due o tre orette quindi ando lì sto aspettando l'autobus sono stremata perché l'altro lavoro è dalle sette alle un e mezzo finito sono e ora devo andare come vedete questi si possono fare il test covid ce ne è qua e ce ne è uno all'angolo sono ovunque proprio lì sono ovunque è gratis per qualsiasi persona e per i turisti che vogliono fare i test fanno il TCR 24 ore 24 ore niente sono andorata sono andorata con il second street è l'ottava non ho neanche pranzata ancora però lo farò a rientro ho dei biscottini eccomi mi vedete ho dei biscottini che mangio perché il mio pranzo lo voglio fare più calma anche se lo avrò alle cinque alle quattro e mezza così in borsa ho sempre snack ok quindi giornata lunga però si lavora no? si va a zappar la terra quel mazzolini di fiori ok vediamo che l'altro bisogna crescere ho una borsa pesante altrimenti avrei camminato però troppo per me guardate un covid test qui come funghi la città non si scherza uno lì uno all'altro è gratis giro puoi farlo anche in farmacia però questa è più semplice perché devi andare dove c'è la gente devi andare dove c'è la gente ora devo camminare verso la 46 stanno in pomeriggio in ufficio che stanchezza devi andare dove c'è la gente devi andare dove c'è la gente esatta ok le quattro di pomeriggio sono uscita ok non vado da Sephora anche che di fronte all'ufficio ok ora vado verso la passazione però mi fermo a guardare i negozi le vetrine oi oi i oi 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 o o o o Ora faccio la sporciatoia perché è meglio tutta questa zona C'è tanta fila per acquistare i biglietti su Broadway Per gli spettacoli Broadway a metà prezzo La gente si è messa in fila Proprio lì Ok, dopo c'è ticchetti Ok, facciamo un po' di Guarda questa piccola bicicletta Mannaggia Ho il semacro Ora mi fermo da Junior's, hanno i tavolini fuori Non fa freddo, insomma è comportevole Insomma fa freddino ma va bene Mi fermo lì ora È 4.20 Non mi reggo più in piedi Ok